siamo sul pezzo buonasera amici cripto investitori e ben ritrovati a tutti quanti in questa giornata che è in pugno agli orsi aspettate che è tutto messo male è tutto storto me compreso no niente allora dicevo giornata in cui l'offerta si fa risentire bitcoin non benissimo capitalizzazione di mercato complessiva non benissimo perché se andiamo a vedere cosa sta accadendo anche lato macroscopico abbiamo un po di titubanza vedete abbiamo massimi e minimi decrescenti abbiamo apparentemente fatto un nuovo lower high e se lo confermiamo con un altro lower low cosa che comunque il mercato sembra avere intenzione di fare non escludo un'altra leg down abbastanza imminente che sono curioso di vedere poi dove arriverà da lì si dedurrà quella che può essere la reazione successiva e secondo me questa potrebbe essere quella parte di movimento più importante per andare a definire proprio macroscopicamente il il prossimo futuro il futuro immediato di bitcoin mi spiego meglio torniamo al grafico di bitcoin da solo che è più diciamo abbiamo dei livelli un attimino più chiari no anche lato operativo come vedete qui abbiamo sul settimanale che ha appena chiuso una situazione cioè c'è stata una candela adirezionale questa candelina verde della settimana scorsa è stata pressoché insulsa pressoché inutile e questa settimana abbiamo un follow up di offerta per il momento questo è l'inizio che ha portato ad attaccare nuovamente la zona dei 47002 che il nostro supportino un attimino più vicino no questo qua perché c'è questo supporto allora questo supporto nasce sia del settimanale come vedete ha fatto un po il suo lavoro nell'ultima fase del movimento ma soprattutto dal giornaliero come vedremo più avanti questa candelina tra l'altro della settimana scorsa ha definito ha incanalato ancora meglio all'interno di questo range il movimento che immediatamente segue quindi questo attuale ha creato vedete con un body microscopico quindi per quello a direzionale e due shadow che hanno delineato il range ha creato un po un canalino orizzontale questo canalino orizzontale ci fa da riferimento per questa settimana e le prossime nel caso in cui non lo andiamo ancora a violare per definire due livelli in alto e in basso che fungono un po da barriera no fungono un po da limiti oltre i quali andiamo a innescare un movimento in quella direzione nello specifico se andiamo verso l'alto quindi rompendo i 51 mila e 200 avremmo un movimento di rimbalzo uno storno verde perché comunque la direzionalità principale dell'ultimo movimento sul breve nota bene è ribassista pertanto se andiamo contro trend il trend ripeto va di qua va di qua ogni tanto mi salta il mouse noi andiamo in in su verso di qua invece andiamo contro trend e quindi la probabilità volge di più dalla parte dello storno rialzista ovvero quello che volgarmente spesso viene chiamato dead cat bounce ma di fatto non per forza poi dobbiamo avere un altro dampone un'altra leg down con un lower low perché se la domanda si rivela particolarmente vigorosa particolarmente forte con questo questo nuovo rimbalzo continuiamo a chiamarlo così andiamo a fare quella che io qui conierei un termine no high discovery ovvero andare a cercare dove piazzare l'hai successivo che con buona probabilità si sarà un lower high ma poi andiamo di nuovo a cercare il low e se dovessimo fare un higher low saremmo comunque in una situazione a tendenza accumulativa quindi questo sarebbe uno scenario ovviamente positivo e ho su un partito da questo per volutamente no per cercare di far capire che non siamo ancora in una situazione catastrofica non siamo ancora in bear market e per sottolineare l'importanza che questo movimento potrebbe avere questa è l'ipotesi migliore in assoluto ok meglio di questo c'è solo l'andare immediatamente a pompare a trovare un higher high praticamente cosa molto remota in termini probabilistici ma mai dire mai in ogni caso ripeto questo livello questo vedete il top della shadow qua sopra nonché guardate anche vecchio top che deriva da qua è la nostra resistenza del canalino attuale che se andiamo a rompere inneschiamo il nostro rimbalzo andiamo a vedere dove andiamo a trovare l'hai e se troviamo un ai abbastanza forte da un punto di vista della domanda la partita è assolutamente ancora aperta dall'altra parte abbiamo la situazione di lateralità quindi rimanere all'interno di questo canale che dice poco dice niente potrebbe essere sul breve una distribuzione perché arriviamo ripeto di nuovo arriviamo da un dump pure pulito sto mouse non lo so vabbè è bearish anche lui arriviamo da un dump quindi la probabilità volge ripeto al favore della distribuzione altrimenti avremmo lo scenario più bearish in assoluto che sarebbe la perdita del 47.000 e giù di lì che è il nostro supportino qua sotto noi lo andiamo a perdere facciamo quindi inneschiamo ufficialmente una nuova leg down e puntiamo quello che è il supporto principale che è la zona 40 42 questo famigerato supporto questo pool di liquidità in domanda si spera quantomeno perché se la domanda non si presenta neanche lì ecco che la situazione inizia avvolgere al brutto inizia avvolgere al brutto perché facciamo un lower low anche su time frame settimanale anche macroscopico e questo comporta che le possibilità le probabilità di andare poi a fare a cercare un high che sia decente e un low successivo che sia decente vanno diminuendo quindi si rafforza la struttura di offerta si indebolisce la domanda e in altre parole ci vorrà più tempo per riprendere una situazione bullish complessiva c'è una possibilità oggi qualcuno mi ha scritto che mi ha fatto molto ridere mi ha detto ma in realtà bitcoin ci sta fregando tutti lui non è né bullish né bearish lui sta lateralizzando tra i 30 e i 60.000 e continuerà a farlo bam 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 vi immaginate che storia per anni lateralizzare tra i 30 e i 60.000 quindi alla faccia di plan b alla faccia di tutti i perma bear che dicono down trend ma lui se ne frega e lateralizza ve la lascio lì ovviamente ci sarebbe un altro forte pool di domanda in zona 30.000 questo è inutile che ve lo dica perché abbiamo dunque questo era il mensile forse addirittura sì guardate che roba abbiamo un pool di domanda mensile sui 30.000 quindi credo sia il costrutto di supporto più forte che c'è se li perdiamo vabbè non ci voglio neanche pensare però già arrivarci quindi arrivare a perdere i 40 42 e scenderci sotto ci allontana talmente tanto dagli ai che purtroppo mette una pressione importante e per quanto mi riguarda va ad alterare in maniera molto drastica la struttura e sinceramente lì è il punto in cui andrei a rivalutare tutta la struttura macro quindi non sarei più così bullish e mi comporterei di conseguenza come abbiamo accennato le ultime volte quindi adesso è importantissimo più importante che mai guardare nel piccolo e vedere quindi la reazione guardate come come bello questo range sul daily no quello che sul weekly era una candelina con body minuscolo e shadow lunghe sul daily è questo questo piccolo range laterale che di fatto traduce bene quello che è il significato anche della candela weekly no a direzionalità indecisione spazzata di liquidità sopra e sotto e in sostanza dobbiamo deciderci da che dannata parte andare bisogna fare molta attenzione a operare in situazioni come queste perché il rischio è elevatissimo di farsi segare le gambe da uno stop loss perché sono all'ordine del giorno gli sweep guardate ce n'è stato uno poco fa a tal proposito se noi andiamo a zoomare guardate quest'ultima shadow di oggi è leggermente inferiore alle altre quindi ha fatto proprio una spazzolata di stop loss per poi rimbalzare localmente perlomeno ma allo stesso modo voler andare ad accumulare che è una cosa che si fa tipicamente durante i range però tra delle gap cosa che qua purtroppo non è in essere andare ad accumulare in fondo a range per puntare poi al rimbalzo per l'appunto è un setup rischioso proprio perché ci troviamo in downtrend allo stesso modo andare a cercare che è la cosa che si fa di solito appunto in downtrend la liquidità a rialzo cioè quindi qua sopra per andare a cercare lo short da utilizzare per il rimbalzo successivo ci può stare per chi fa operatività di molto breve ma se si ha un attimino di come dire orizzonte temporale più ampio il rischio permane perché comunque abbiamo un bel supportone immediatamente sotto i nostri piedi quindi potrebbe risvegliarsi domanda qua sotto quindi andiamo qui poi rimbalziamo subito pertanto avremmo solo quest'area come possibile area di reward e per fare il trade chiaramente bisogna averlo ben presente comunque non mi voglio cos'è sta cosa non mi voglio perdere più di tanto in chiacchiere sul grafico perché questo lo andiamo a vedere molto meglio alla fine adesso vorrei fare una piccola carrellata di notizie di cose e poi lasciare la parola a voi quindi chiedervi un po qual è la vostra idea di questo mercato come vi sembra la struttura cosa state seguendo le altcoin tra l'altro stanno si stanno facendo parecchio male ultimamente la dominance sembra dico sembra perché insomma è ancora agli inizi questo rimbalzo ma sembra vedete aver iniziato la fase di boeing di rimbalzo di nuova leg up all'interno sempre di questo range vedete anche perché è veramente bassa la dominance scendere sotto il 40 per cento cioè sarebbe una cosa non dico senza precedenti ma l'unico precedente sarebbe quel folle bull market del 2018 che ha culminato a inizio 2018 guardate gennaio 18 in cui le altcoin erano non sopravvalutate di più e quindi insomma è un messaggio molto forte no è un possibile bottom per le altcoin molti dicono io mi limito a dire vediamo come si comporterà la dominance se rimbalzerà oppure no c'è anche da dire che ethereum che è ciò che guida poi le altcoin al momento ha dei fondamentali veramente forti non credo siano mai stati così forti in tutta la sua storia e ci vuole acqua ghiacciata comunque iniziamo subito con qualche notizia lampo la prima è l'hack che c'è stato ad ascendex un exchange ex bit max si chiamava e è stato attaccato e sono stati prosciugati 77,7 milioni di dollari su queste tre chain ethereum bsc o binance chain no scusa forse binance chain proprio e polygon in particolare su ethereum e questi sono i token che sono stati prosciugati e questo vabbè per dire che bisogna sempre fare attenzione a lasciare le coin sugli exchange perché il rischio è sempre presente io ogni tanto lo ricordo perché so che molti lo fanno no vuoi perché si utilizzano prodotti di rendita i vari earn le rendite passive appunto cefai e quant'altro in tal caso io mi raccomando utilizzate solo ed esclusivamente se proprio dovete farlo quegli exchange con la e maiuscola quindi crypto.com binance ftx i big non andate a farlo magari per avere quel 2 3 per cento in più annuo su exchange esotici che poi vi espongono a rischi importanti lato sicurezza la sicurezza è al primo posto non esiste sicurezza come avere le proprie coin sul proprio ledger se si utilizza defy o si utilizza cefai ci si espone a rischi e vanno assolutamente sempre quantificati poi a proposito invece di dftx mi è venuto in mente prima l'avevamo accennato di volata nella nella puntata nella live scorsa di di venerdì scorso gli bonifici i bonifici su ftx sono di nuovo operativi quindi se voi andate sul vostro account e cercate euri e fate deposit vedete che si vedono già gli slow sepa il sepa instant non è ancora disponibile in italia quindi il bonifico istantaneo non c'è ancora bisogna scegliere pertanto lo slow sepa e lo slow sepa è un bonifico normale il funzionamento è sempre il solito si mette l'ammontare bisogna caricare il pdf della contabile del bonifico ve l'ho spiegato poi nel tutorial di dftx avevamo visto tutto e poi per il primo ci può volere un po di tempo anche una due settimane addirittura di solito meno e io vi dico la verità quelli che ho sentito in pochi giorni venivano accreditati però so che ci possono volere anche un po più ci può volere anche un po più di tempo proprio perché adesso hanno in coda un po di operazioni hanno cambiato provider di trasferimenti sepa motivo per cui c'era stato un attimino il il gap il buco di di servizio e per il resto tutto normale quindi non ci sono fidi deposito non ci sono fidi prelievo sui bonifici sepa quindi zero fii per tutto quanto il resto delle fii sono le fidi ftx che sono assolutamente tra le migliori in circolazione insomma la mia opinione su ftx la conoscete molto bene e l'assist è pronto per piazzarvi il mio referral link che ve le diminuisce di un altro 5 per cento le fii ma scherzi a parte ve lo dico con sincerità io ormai utilizzo quasi solo ftx e gli altri top cioè bain ha scritto punto com perciò che non mi permette di fare ftx che purtroppo alcune coin tipo luna non ci sono e quindi insomma bisogna un attimino arranciarsi poi 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 ma io su ftx ho continuato a bonificare ogni 15 giorni senza problemi guarda io ti posso dire che gli hanno rimessi l'altro ie no venerdì venerdì stesso perché ve l'ho comunicato proprio venerdì poi magari erano in coda i tuoi bonifici quindi sono stati evasi lo stesso però c'era stato un attimino di di pausa papà papà scillatore professionista assolutamente sì assolutamente sì license of shield come si suol dire license to shield o meglio poi andiamo avanti con il nostro danielone che oggi ha fatto una proposta nella governance di sushi per andare a unire le forze del di quella che chiama frog nation ormai che è il suo ecosistema no con dentro wonderland popsico labracadabra tutti i suoi tutte le sue dap sapete bene come cosa ne penso di di tutto quello che fa e che ha sempre fatto e vuole inglobare in qualche modo insomma far collaborare anche sushi con quella che è con quello che è il suo ecosistema in particolare lui a cuore a molto la decentralizzazione vuole decentralizzare ancora di più sushi swap vuole andare a far diciamo non so neanche che termini utilizzare ma mettere insieme le treasury delle varie dap quindi di sushi con di tutte le altre che ha in particolare gli piace molto sushi perché è cross chain sapete che è praticamente attivo ovunque sushi swap se voi andate a scegliere la chain vi posso anche far vedere se vi va c'è qualsiasi cosa ogni cosa allora enter app in sostanza abbiamo qua la possibilità di scegliere tra le chain eccole tac qua su e c'è tutto tutto qualsiasi cosa e quindi questo sapete che lui ha partecipato anche con any swap a dare liquidità ai bridge ha fatto un po di bootstrapping sull'ecosistema phantom insomma di cose ne ha fatte per il cross chain e in qualche modo vuole integrarci anche sushi allora io non so dove vorrà arrivare alla fine ma secondo me c'entra molto popsicle su questo perché popsicle essendo un ottimizzatore di liquidità e con un forte orientamento cross chain e io insomma mi immagino che il prodotto finale di popsicle permetterà di depositare liquidità e lui la gestisce sulle varie chain ecco e ci vedo un utilizzo molto concreto anche in integrazione proprio con sushi swap stesso sta di fatto che per adesso insomma si parla ancora in una maniera generica ecco non ci sono proposte operative ma di fatto vedete si menziona il multi chain di sushi swap il voler fare un dao to dao quindi mettere insieme le forze delle varie treasury delle varie dao e andare a potenziare al massimo la decentralizzazione e la possibilità di servizi offerti di sushi swap insieme a tutto quello che è il resto del suo ecosistema e quindi niente questo ha fatto anche saltare molto bene sushi oggi non so se è già stato assorbito poi visto che c'è stato un pelo di dump no sta no ha fatto il suo più 10 per cento nonostante sushi non è che sia proprio una cosa folle come come grafico ma questo io non sono non sono fan di sushi e neanche dopo questa cosa non è un token che mi viene voglia di accumulare ma di fatto mi rende bullish su tutto l'ecosistema suo e anche di sushi swap in generale come piattaforma ecco poi 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 vediamo cosa questo ok lo chiudiamo non ci serve più qualcuno mi aveva chiesto di unstoppable domains di fare un video tutorial addirittura allora io ci sto pensando seriamente visto che secondo me è un come dire un investimento interessante anche soprattutto per chi punta ad avere una presenza on chain e ad avere un'identità on chain anche col crescere dei metaversi io ho fatto anche questo mi sono fatto questo trip ultimamente ho detto metaverso ok si andrà nella direzione di avere un'identità digitale sempre di più identità on chain quella che viene definita da molti a identity by choice anche ovvero il contrapporre no l'identità che uno ha quindi la cosiddetta lotteria genetica perché non te la scegli almeno in parte soprattutto nel grosso non te la scegli con l'identity by choice che è quella invece definita dalle foto profilo dagli avatar nft dal il dominio on chain cioè tutto ciò che fai on chain che è unico perché comunque in qualche modo grazie proprio alla nft lo rendi unico e diventa la tua identità in un metaverso in un social in un protocollo una piattaforma una governance e quant'altro e quindi secondo me si inserisce bene ecco questo discorso di unstoppable tra l'altro ho letto questa notizia che mi ha strappato un sorriso che c'era questa tipa il cui handle di instagram era metaverse e facebook l'ha sottratto brutalmente ha detto sai cosa ti dico me lo riprendo ciao affaracci tuoi non te lo compro neanche me lo prendo proprio e lo stesso a volte succede con i domini sapete la censura una cosa e l'altra mentre unstoppable permette di renderli completamente incensurabili e col lato sito web lato identità e quindi un nickname che è tuo di fatto no una volta che ce l'hai con quell'estensione del dominio e si potrà integrare per adesso con i wallet con le immagini profilo nft tra l'altro perché io ho letto anche le ultime news e vedo che si può verifare una verifica che in sostanza l'inca vede che tu hai effettivamente la proprietà di quell'nft la profile picture sotto forma di nft al tuo dominio quindi vedete met.crypt ad esempio col suo bellissimo pudgy penguin e via che si flexa subito e chi c'ha il suo il suo crypto punk la sua scimmia adesso ci sono i pappagalli pirata tutte quelle cose lì tutto molto bello e ognuno si crea un po la sua identità on chain è una cosa che va molto di moda adesso ora tra l'altro sono sbarcati su polygon quindi a zero gas fee si può fare il management eccetera 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 quindi secondo me può essere molto molto interessante anche questa come cosa per dal punto di vista del come cioè in realtà non è difficile cioè basta è un acquisto no si si sceglie il proprio dominio si scrive quello che si vuole mettere ciao ciao ad esempio proviamo a vedere che cosa c'è ciao ciao punto cripto 40 dollari e te lo pigli bel progetto punto cripto tac 40 dollari e ho il mio fantastico dominio bel progetto punto x anche punto da o punto bitcoin insomma ce n'è di tutti i colori poi è un nft quindi so che ci sono anche degli squatter che hanno fai odio gli squatter sinceramente chi chi ruba i domini che e poi li rivende a chi ne ha bisogno a prezzi folli però so che ci sono stati degli squatter che hanno fatto bei soldoni quindi vabbè credo sinceramente che sarà un settore degno di di nota ecco degno di di crescita questo ci arriviamo dopo ultima cosa dunque io avevo tra l'altro un referral link anche di unstoppable non so più dove l'ho messo però da qualche parte ce l'ho forse questo non lo so facciamo una cosa adesso ah sì eccolo qua ce l'ho ce l'ho tac mi sembrava strano e poi ve lo lascio anche in descrizione su youtube ultima cosa ho lanciato in insieme al con l'aiuto di un amico che fa la parte tecnica di cui io non sono in grado di gestire il nodo validatore di desmos che è un progetto che voglio supportare una cosa per me completamente no profit anzi probabilmente è il bilancio in perdita perché il token non è neanche listato e ci sono solo le spese di mantenere il nodo validatore e per il resto le entrate sono minime a meno che non si diventi un top validatore ma cosa che sicuramente non accadrà a me perché accade a chi o le balene o a chi comunque ha dei delle grosse spinte interne diciamo e però io ho voluto sperimentare questa cosa no per vedere cosa vuol dire toccarlo un po con mano e abbiamo messo in piedi appunto questo nodo di desmos che è un progetto che voglio supportare a parte tutto perché ho conosciuto il team mi mi piacciono e quant'altro e allora detto sa vi supporto in questo modo fatto il mio nodo con l'aiuto di di un amico che gestisce la parte tecnica abbiamo fatto un bot per verificare l'app time per gestire il tutto in maniera corretta e carina ho dedicato un canale su discord sul nostro discord che potete tra l'altro invece c'è il link qua per per unirvi è di cui si parla di tutto all'interno di discord ma c'è un canale dedicato proprio ad esmos dove vi aiutiamo a riscattare le airdrop senza mettere la seed phrase dove se avete dubbi potete chiedere insomma noi vi rispondiamo e vi diamo una mano e se vi va di delegare in staking i vostri dsm che adesso non sono ancora listati neanche su osmosis quindi si può ma è il claim dell'airdrop e poi se volete lo potete delegare io vi lascio anche il link del validatore tac che è questo e ve lo lascio anche in descrizione sul sul video del tubozzo e la pr adesso è dell'80 per cento quasi quindi non è neanche malaccio e poi siamo tutti curiosi di vedere quando verrà listato su osmosis quanto varrà ho terminato con le le notizie e le scillate del giorno quindi io adesso lascio dietro questo bellissimo graficozzo mi raccomando tutti in staking sul nostro nodo fatti bravi che sapete che vi potete fidare sapete chi c'è dietro e insomma che siamo bravi belli e simpatici allora allora lo hai dato un'occhiata ai progetti del binance incubation program c'è un metaverso gaming molto interessante chiamato block ape scissors se hai tempo studiatelo perché secondo me ok interessante interessante a quando le dirette del salvador io la volevo fare oggi in realtà però poi non siamo riusciti ma la organizziamo ci tengo veramente un sacco organizzarla quindi la facciamo la facciamo mi consigliate il supercharger di cripto.com direi proprio di sì perché assolutamente se hai dei cro liberi è un modo uno dei modi migliori per metterli a rendita è impossibile avere le drop senza usare la seed phrase al momento non è vero in realtà si può si può collegger quindi senza mettere il seed chiaramente sbloccandolo collegger oppure con kepler che è il wallet di cosmos del mondo cosmos salta dentro al nostro discord che ti spieghiamo passo passo come si fa ci sono tutti gli articoli fatti bene poi hai visto il listing del token ride su mayer in verità no l'ho un pelo abbandonato mayer allora mayer tatatata c'ha ancora quasi 2 billion di tvl nonostante tutto i farm ormai purtroppo sono un attimino caduti in disuso il listing di ride dove sta non è ancora farmabile non è ancora farmabile papapapà vediamo cosa c'è eagle drive no dove è ride ragazzi io non lo vedo non lo vedo non lo vedo sono veramente fuori dal mondo con con il mondo elrond niente quando c'è la live con mind layer domani domani ragazzi è domani sera le 18 siamo in live con i ragazzi di mind layer parliamo di defy su bitcoin li ho afferrati sono riuscito a incastrare un'oretta tra i loro mille mille impegni ve li do in pasto e io tipo un papiro di domande da fargli e spero anche voi raid no raid mi sembra sia dal 16 a ok dal 16 molto bene io di sicuro non lo tocco ve lo dico con estrema sincerità cioè già non tocco i token appena listati figuriamoci una cosa così speculativa insomma non assolutamente no che riuscire a partecipare al launchpad sarebbe stato figo però purtroppo non ce l'ho fatta adesso ho già annunciato il prossimo a proposito vediamo 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 no da sempre hollow ride sono curioso di vedere che multiplo fa ma secondo me fa un multiplo bello alto dal launchpad perché è una cosa che elrond ed intorni ha di sicuro è l'hype non so per quale motivo c'è un hype del genere ma c'è sempre un hype polle intorno a elrond quindi vedremo poi allora papapapapà vediamo cosa ne pensi di mutable x potrebbe essere il futuro degli nft allora i mutable x tanta roba secondo me ma in generale tutto il mondo delle zicchei roll apps che è la tecnologia su cui è costruito in mutable x io sono estremamente bullish il mutable x è stato sviluppato dall'azienda che si chiama star quer e questa stessa star quer sta sviluppando anche star net che è una sorta di mutable x non più solo dedicato agli nft ma spendibile su tutte le dap e quindi è una bomba sarà una bomba non vedo l'ora adesso è in in beta mi pare solo per gli sviluppatori in alfa forse addirittura per gli sviluppatori ma molto molto bullish ciao cosa ne pensi di star atlas acquisterai le navicelle lo farò se andiamo in bear market altrimenti io mi son fatto un giuramento il mio giuramento è non compro nft finché non andiamo in bear market quindi la risposta è no a meno che non le vedo proprio a prezzi regalati cosa che non accadrà perché in bull market gli nft tendenzialmente sono molto 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 più sovrapprezzati delle coin stesse quindi per me no hai visto mmf su cronos sì l'ho vista mannaggia voi mm finance no cos'è che era mmf finance non mi non mi ricordo neanche più come si chiama andiamola ricercare ah mannaggia cronos mm finance mmf questa era una roba degen all'ennesima potenza e io farei è questa vediamo no non credo o sì secondo me potrebbe potrebbe sono quei pork no di dei vari goose pancake swap di quelle varie piattaforme già esistenti sulle altre chain apr folli ma sinceramente il loro token non lo toccherei manco per sbaglio per come la vedo io è un po come vbs no vbs è il classico token da da farm and dump per cioè apr folli inflazione folle diluizione folle e vive di di quello no vive perché perché usare una piatta quella piattaforma perché si farma a manetta si farma all'impossibile e il token stesso con l'inflazione che ha è portato poi a perdere valore questo ancora di più cioè è una un simil vvs vvs almeno è più legge ha fatto l'hackathon la bug bounty tutte quelle cose questo diciamo che ancora più rischi bisogna mettersi in conto mettere in conto queste cose liquidità molto alta c'è l'audit di certi quindi viene voglia di metterci cipino però bisogna fare estremamente attenzione perché insomma parte ripeto il discorso non so neanche se c'è un vesting sul token o se ti viene dato tutto subito o che altro probabilmente ti viene anche dato tutto subito quindi sappiamo già che fine farà e probabilmente vediamo se c'è già anche su bifi o comunque arriverà anche su bifi e su sugli auto compounder che faranno automaticamente farm and dump andando a incentivare ancora di più la selling pressure allora non volevo andare su bsc ma volevo andare su kronos adesso facciamo un passo alla volta tac kronos passa alla rete kronos poi in questo periodo di indecisione del mercato no dove c'è un forte rischio comunque di bear market di ribasso prolungato di inizio di ribasso perlomeno diciamo secondo me è un periodo in cui conviene fare un passettino indietro con il rischio cioè non esporsi a rischi troppo elevato non è il momento di rischiare ecco secondo me con token e con piattaforme un po più esotiche no non c'è ancora ma il resto della mia idea cioè piedi di piombo massima attenzione l'audit di certi che non l'ho ancora visto molto bene ma non lo so insomma credo che in progress no molto bene non è non è ancora stato fatto massima attenzione massima attenzione rischio alto poi poi torniamo a noi torniamo a noi allora fortune dow su kronos l'hai vista era è il fork di olympus è il fork di olympus mi puzza fortune dow i fork di olympus è un'altra cosa secondo me sì è un'altra cosa che al momento fugo abbastanza a parte quelli in cui sono già dentro e diciamo che sto pianificando l'exit strategy in caso di prosecuzione ribassista ma adesso andare a cercare i nuovi ripeto è il momento di non esporsi a rischi troppo elevati secondo me quindi attenzione alla parte gambling io punto a ridurla progressivamente perché quando il mercato inizia a mostrare segni di debolezza di solito queste robe esotiche sono le prime a non dico magari collassare ma dampare i token dampano quindi le shitcoin le meme coin le coin farmabili cioè tutte quelle cose che uno in un bear market non vuole fare perché in un bear market uno vuole essere il più safe possibile no stable coin rendite su stable coin quei pochi asset sicuri cioè con maggior valore th btc luna quelli insomma su cui si investe più a lungo termine ma sicuramente non i token esotici da mille per perché quelli possono funzionare in un bull market ma nei bear market sono una sure loss quello è poco ma sicuro poi procediamo procediamo accala e dot e guarda il mondo dot è valido sul lungo termine cioè ci sono tanti bei fondamentali quindi il mondo dot è una di quelle cose su cui sono bullish a prescindere dalla price action e quant'altro spieghi gli apr di mirror come si sommano nella terza strategia quella delta neutral intendi è un casino è lunga avevo fatto il video dedicato ma in sostanza tu parti con usp in parte li metti a rendita su anchor diventano a usp perché in parte perché degli usp liquidi ti servono per fare con gli usp li metti in collaterale per fare short farm su supponiamo sp500 il qqq quegli etf a bassa volatilità l'altra la utilizzi per fare long farm che significa l'asset più usp in pool quindi tu hai long farm short farm di controvalore equivalente sei delta neutral e te ne freghi dell'andamento del mercato te ne devi fregare molto invece che non pumpi troppo l'asset in questione che stai shortando altrimenti i rischi di essere liquidato occhio 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 allora non preoccupatevi per tutta questa folle terminologia defy perché un po alla volta la stiamo affrontando giovedì arriva la terza puntata della nostra del nostro corso gratuito di defy dove parleremo di bridge wallet multi chain multi chain in generale come saltare da una cena all'altra tutto ciò che c'è da sapere insomma sul bridge su e con esempi pratici e quindi iniziamo anche a parlare di pratica poi ciao luca in questo momento faresti upgrade da carta ruby a green o aspetteresti ma dipende dalle tue necessità amico mio cioè io sinceramente l'ho fatto il giorno 1 e l'upgrade alla green perché per i benefit che da insomma la voglio tenere a lungo termine e quindi insomma sono contento di averlo fatto non stare a impazzire sul prezzo di crow sul quando farlo quando non farlo alla fine non è una somma così alta che ti fa va a cambiare la vita ecco qua l'entrare in alto in basso forse in te non ci impazzirei chiaramente devi avere deve avere un'utilità per te quella carta altrimenti non non ha nessun senso ciao è possibile che su luna stia accadendo un falso break un falso break su luna vediamo 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 allora allora dunque questo è un vero break è in ritracciamento luna è in ritracciamento ha fatto la sua prima strutturina di top qua su tac 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 la rotta ha fatto una una mini lateralità lower low insomma stiamo un attimino sgonfiandoci contro bitcoin quindi il primo punto di atterraggio possibile potrebbe essere questo tac dunque no 9.400 fino a 10.250 questa zona questa zona potrebbe essere un primo punto di atterraggio ta 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 su cui poi andremo a vedere dove sarà il prossimo high magari sarà un lower high e magari inizia anche un ritracciamento un pelino più duraturo me lo auguro che si accumula di più no scherzi a parte ancora molto esteso sotto tutti i punti di vista luna è molto esteso macroscopicamente e anche sul breve quindi massima cautela ve l'ho sempre detto i grafici estesi io non li tocco a prescindere ma che dire anche una volta che sarà arrivato qui sul suo punto d'appoggio c'è da vedere poi la price action cioè io non avrei fretta quando inizia a sgonfiarsi così io lo lascio fare lascio arrivare alla fine quando c'è una struttura più solida poi eventualmente si pianificano posizioni poi 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 mi se mi pento abbastanza non aver svuopato l'uno in btc la settimana scorsa che te devo di che te devo di guarda è inutile pentirsi col senno di poi abbia una strategia di lungo termine quello di quello non te ne penti mai quindi se vuoi accumulare dei luna dei btc pensa sul lungo termine come raggiungere quell'obiettivo dopo tot anni e nel breve ti ti muovi in quella direzione lì quindi vai non stai più impazzire dietro i grafici giorno dopo giorno non ne vale la pena te ne renderai conto molto spesso mi manca solo l'analisi atom e sono contento e allora eccola qua inizia a essere bullish su atom sul lungo termine quindi per l'anno venturo quasi quasi una piccola bag la si potrebbe anche studiare allora il grafico è orribile osceno bruttissimo quindi purtroppo qua non c'è niente di buono da dire siamo ritornati nella sua zona qua di di super mega range di di bottom più o meno con una punta sopra la testa bruttissima perché ha fatto questo pam pam così una sorta di higher high ma subito assorbito con una un'offerta pazzesca e adesso c'è da vedere dove trova il bottom in base a quello poi si può studiare un'operazione ma magari questo il reclaim di questa zona potrebbe essere la prima operazione però per adesso lo vedo messo non benissimo ecco lato grafico perlomeno poi allora allora wonderland e time e wonderland e time anche loro in situazioni in un bar ma in un ipotetico bear market secondo me adesso non voglio fare il gu la sfera di cristallo nera per capirci no docs enter up in un ipotetico bear market un meno 60 per cento minimo ancora lo fa se c'è un bear market ok effettivamente adesso ecco è sceso un attimino ma si è abbastanza stabilizzato il prezzo di time ma con la rendita che dà e col livello di rischio che ha in una situazione dove la gente fugge il rischio la gente fugge anche time cioè bisogna essere onesti no con se stessi non non ci si può illudere che una cosa del genere possa andare avanti indefinitamente senza mai dampare cioè e quando è che dampa quando c'è bear market quando c'è ribasso quindi sappiate che accadrà poi e i fork non oso immaginare cioè l'impossibile proprio hai visto che tonfo vws e non non ne dubito anche quelli purtroppo dopo che si 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 farma 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 non benissimo cioè vanno la gente vende la gente fa profitto solana solana andiamo a dare un occhio al nostro solana ogni tanto tac non benissimo anche lui in realtà e le altcoin stanno un attimino topando è secondo me stanno top and qui abbiamo un triplo top addirittura 42 mila qui abbiamo un piccolo top una costrutta di top proprio che sembra essere stato validato oggi vediamo dove chiudiamo vediamo poi come ci comportiamo anche rispetto ai due supporti sottostanti non so perché ho inquadrato quello che tra tutti ma forse perché arriva da lì quindi beh comunque la zona è questa e il range low tac quindi questo qui e se li perdiamo anche qua potrebbe essere ora di fare un ritracciamento un po più profondo quindi sulle altcoin in generale si sta iniziando a verificare il seguente scenario abbiamo dei segni di possibile non trascurabile possibilità di bottom cioè di top scusate di bottom della dominance di top per le altcoin abbiamo la dominance in rimbalzo in possibile inversione ci sono i primi segni di possibile inversione adesso sta iniziando a crossare le medie mobili abbiamo dei costrutti sulle altcoin di indebolimento molto forte anche su quelle top performer vedete luna ha fatto il suo costrutto di top è ancora uber bullish ma ha fatto il suo costrutto di top solana allo stesso modo vedete ha fatto il suo primo breakdown di un supporto poi cosa abbiamo che pure lui come potete vedere ha perso ha fatto questo piccolo top e adesso sta lottando con 0079 quest'altro supporto se viene assorbito anche qui abbiamo un ritracciamento in atto molto marcato e con esso vedete tutto il mercato delle altcoin c'è ancora quel fastidiosissimo bug di trading view per il quale si vede tutto rosso no scherzi a parte le altcoin non sono in una gran posizione ok sono tutte un attimino così titubanti tra le altre vediamo ad esempio anche bnb volevo vedere un po di altre ecco bnb è una di quelle che al momento tiene botta di più addirittura ha rischiato un all time mai su bitcoin recentemente bnb sta passando un po sottiradar non ne sento parlare ma la vedo molto carica poi avax avax anche lei vedete sta per da perso rischia di perdere il primo supporto phantom phantom ha fatto un costrutto di top già molto elaborato insomma siamo in una situazione in cui le altcoin stanno un attimino rigirando dall'altra parte postare gli ust da ancora liquid pylon pool per un farm and dump ma ci sta ci sta ci sta ti dico il pylon al di là anche del farm and dump se si sceglie il pool giusto si può sfruttarlo per accumulare eventualmente coin dei progetti terra sul lungo termine durante i bear market di solito è accumula il momento migliore no per accumulare soprattutto se non si paga no bnb pompa perché c'è tutto lo shit market sotto con gli shit pad esatto 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 anche sta sta cosa dei launchpad incredibile incredibile bollissima anche per loro launchpad con dei cento per dieci launchpad al giorno ci sono ovunque ovunque altro top signal pure questo cosa ne pensi di eos o mio dio niente di buono purtroppo mi dispiace non non c'è niente su eos è centralizzato non ha tanta ragione di esistere non mi piace purtroppo come mai gli apy di bifi su chronos sono così bassi ora perché ha dampato vvs perché ha dampato vvs allora andiamo a vedere a quanto ammontano se ti ricordi dalla puntata 2 proprio del corso di defy abbiamo visto come aspettate vai a chronos abbiamo visto come funzionano gli auto compounder come bifi e funzionano proprio grassi e alle reward che ci sono quindi su vvs ad esempio il nostro crobitc che era la mia cartina torna sole dov'è eccola pro btc vabbè sempre buono dai 104 per cento di apy si era 5 6 volte tanto però non ci si può ancora lamentare approccio farm and dump assolutamente preferibile accumulare vvs ma me lo chiedeva qualcuno stamattina ma io non lo farei troppo troppo speculativo troppo speculativo allora allora puoi guardare cro contro btc e metterlo in watch list volentieri cro btc vediamo dove si trova su wabi eccoci è estesissimo estesissimo mamma mia e lo mettiamo in watch list non capisco come mai non ci fosse l'ho giunto si vediamo pam pam eccolo estesissimo massima cautela massima cautela attenzione perché una roba del genere mamma mia mamma mia che dire che dire che ne pensi di solana sono bullish su solana sinceramente sono bullish sul lungo termine soprattutto lato gaming credo che usciranno cose interessanti meno 40 per cento in un giorno vvs non lo darei neanche sotto la penso un po come da opportunità di arbitraggio su terra è un attimino sia un attimino saturata è un attimino saturata perché 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 dunque biluna luna adesso sta a 0 97 quindi tra i 28 gio il 21 giorni una cosa e l'accia c'è di meglio come rendita su luna ecco si è abbassato un attimino anche la rendita dello staking su luna adesso andiamo a vedere su stader stader labs vediamo dunque va state pools 10 per cento siamo stabili sul 10 per cento prima eravamo eravamo mica il 12 13 mi pare però avevamo fatto due conti che per rendere l'arbitraggio lato apr più conveniente dello staking ci voleva e non mi ricordo più però avevo fatto il con domani ve lo condivido vi condivido magari su telegram l'excel che avevo usato per far quel calcolo lì quindi quando conviene fare il salto da luna biluna e poi fare il burn e riclaimare il luna indietro che spesso è più conveniente sia dello staking che delle altre strategie crypto.com mi sta dando 14 e mezzo sulle stable un'alternativa altrettanto valida con maggior rendimento guarda con così tanta semplicità come crypto.com earn non la trovi altrimenti c'è il buon vecchio anchor che ti dà il 19 qualcosa adesso dovrebbe anche essersi ristabilizzato fatemi ceccare che l'ultima volta era un attimino calato l'apy ma di un qualcosa di impercettibile earn 19 6 no esatto era arrivato al 19 no a quanto era arrivato al 19,1 tipo e tu panico tu ti panico oddio collassa ancora no in realtà c'era stato un problema con le liquidazioni una roba del genere non avevo seguito molto bene però mi ricordo che c'era stato non so se era un difetto di dell'oracolo o che altro era successo c'era stata qualche liquidazione di troppo in sostanza su anchor e però niente è sempre lì sempre bello stabile e aspettate andiamo anche a vedere il la yield reserve come si muove inizia un attimino a flettere niente di preoccupante è perché comunque è sempre più che sana però la monitoria e noi di volta in volta la guardiamo sempre ecco per mantenere alto il l'apy ciao luca ma come si collega il wallet kepler con terra station per fare il claim di desmos e comdex allora per desmos c'è il tutorial lo trovi proprio sul sul medium di desmos ufficiale l'avevo condiviso oggi sul mio canale discord per comdex dunque avevo avevo trovato anche lì un avevo condiviso recentemente un tweet dove c'era l'articolo che lo spiegava però di fatto tu da kepler puoi scegliere la chain no e quindi una volta che scegli la chain poi ci puoi interagire è abbastanza semplice insomma borrow tornato positivo sì di poco ma è tornato positivo ho notato anch'io ho notato anch'io allora vediamo era al 3 per cento l'ultima volta vediamo oggi 2 69 siamo sempre lì ma perché di fatto vedete che c'è stato un po' di flessione soprattutto lato borrow perché comunque è calato il valore di luna qualcuno è stato liquidato immagino e via e a proposito di liquidazioni c'è sempre il buon vecchio kugira che ci permette di fare anche da liquidatore e grattare qualche luna in sconto infatti il tvl aumenta in continuazione comunque con un 5 per cento di premium se dampa se c'è un mini dump insomma si riesce abbastanza agevolmente a grattare quindi io di solito mi posiziono tra il 4 e il 7 ecco giù di lì perché poi per arrivare tipo al 10 bisogna liquidare tutti questi davanti cosa un po' più complicata ecco richiede una price action più violenta allora desmo si può acquistare dove da nessuna parte in verità per il momento si potrà su osmosis dopo il listing che all'inizio del 2022 allora 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 il momento di un paio di graficozzi anche se li abbiamo già visti tutti ragazzi in realtà quindi ci abbiamo ben poco da dirci recap su bitcoin abbiamo detto che fin tanto che rimaniamo con la struttura di higher lows noi siamo tranquilli no? a lato comunque struttura macro dobbiamo fare attenzione se perdiamo questo low quindi se andiamo qua giù andiamo ad attaccare di nuovo questo livello 30 32 se lo perdiamo si salve chi può perché pure micro sailor va under water e non oso immaginare cosa può succedere sta di fatto che se perdiamo questo livello quindi andiamo a fare un lower low poi immagino rimbalzeremo perché che arriviamo qui ok arriviamo qui o che arriviamo qui comunque il nostro rimbalzo lo dobbiamo fare se la struttura è intatta e rimbalziamo prima sto a guardare e aspetto di vedere dove sarà il prossimo high e il prossimo low e così via se al contrario perdiamo questo low quello che andrò a fare è aspettare il prossimo rimbalzo per andare a rafforzare lo short di copertura così finalmente può ripartire il bull market e liquidarmi no sto scherzando ovviamente però so che è il vostro bottom signal preferito il mio short di copertura quindi io vi avviso e in particolare se andiamo a perdere appunto questo livello di supporto ceccherei come resistenze dipende dove arriviamo a trovare il low però una due questa è l'altra resistenza quindi diciamo che andare a cercare un rafforzamento dello short di copertura in questa zona sarebbe un po' il mio target ecco questo è un po' il mio piano operativo per l'immediato futuro mentre se rimaniamo ripeto con l'hier low io mi aspetto con maggior probabilità un costrutto laterale magari di accumulazione e magari poi plan b arriva e ci porta tutti to the moon speriamo chiaramente speriamo ma se io ho il mio 50% in stable coin ve l'ho detto sono pronto anche per un eventuale bear market io consiglio sempre a tutti di ragionare facendosi la domanda cosa farei in caso di bear market ho un piano o vado in rovina perché mi dampa tutto in testa e non so più cosa combinare ho un'accumulazione che porto avanti ho delle rendite alternative anche se bitcoin scende insomma domande da farsi ecco più spiacevoli no che sono cose che non ci piace pensare no a noi ci piace pensare sulla lambo quando bitcoin arriva a 10 milioni ma purtroppo la realtà più immediata a volte anche questa no bisogna arrivare a fare i conti anche con queste cose lato al coin abbiamo visto tutto la total market cap l'abbiamo vista pure quella ho fatto un clic di troppo dato in ordine inverso total market cap attenzione tra l'altro perché adesso abbiamo il prossimo supporto qua a 2 trillion e è il supporto se il discorso dei blocchi no adesso in sostanza abbiamo un po più convalidato il fatto di trovarci non più nel blocco di top ma in questo secondo blocco vediamo se arriviamo anche al terzo se magari un blocco unico se arriviamo giù e poi rimbalziamo insomma bisogna siamo un po in discovery anche da questo punto di vista dobbiamo un po capire che struttura si vuole venire a formare questo è quanto amici io Wendel progetto soon soon molto soon molto soon io vi ringrazio un sacchissimo di avermi seguito di nuovo io chiaramente spero che il tutto si riprenda con forza ma di speranza si muore quindi bisogna essere sul pezzo e essere pronti anche ad un eventuale ribasso anche prolungato non fatevi cogliere alla sprovvista non ascoltate solo parole di moon boy che dicono to the moon bottom is in all in tutti dentro comprare vendere tutto per comprare bitcoin perché di quello veramente si muore quindi se poi inizia ad ampare seriamente per quanto io sia bullish sul lungo termine ci vuole anche un po di concretezza nella vita bisogna affrontare anche le situazioni di ribasso avere un piano sfruttarle a proprio vantaggio e non vivere di speranza perché vivere di speranza siamo capaci tutti ma quando poi il gioco si fa duro si vede chi ha le palle e chi no e chi alla fine ne esce vittorioso e chi sbriciolato con quest'ultime perle io vi saluto noi chi vive sperando muore cagando esatto hai detto tutto e aspettate il mio bottom signal dello short di copertura noi ci rivediamo in live anzi domani con i ragazzi di mindlayer sarà bello spero che abbiate mille mila domande da bombardarli e mercoledì siamo ancora live giovedì corso di defy venerdì altra live ragazzi una roba incredibile noi anzi il mercato è noioso noi di robe da fare ne troviamo ne abbiamo si lavora ancora di più amici di nuovo buona serata a tutti e a presto